Sì, abbiamo lavorato tanto, ci siamo stancati, ma poi alla fine noi siamo tornati a casa nostra e dalle nostre carie e tutto quanto. Però devo dire una cosa, noi abbiamo lavorato, è vero, ma le famiglie che abbiamo aiutato ci hanno dato più di quello che abbiamo dato noi. Le signore durante l'intervento verso mezzogiorno non erano più il numero che erano prima. A un certo punto noi parlavamo, io e Loriano che stavamo aspettando il pranzo, ci hanno detto no, no, siete i nostri ospiti e ci hanno messo su due caprette e su un tavolone lasagne verdi, lasagne rosse, ciambellone, acqua, tutto il che poteva essere definito un bel pranzo, se non fosse stato il contesto. Ma vedere gente che ancora avevano gli affetti più cari di ricordi di una vita dentro al fango, smettere e per prepararci un pranzo, per me è stata una cosa indimenticabile.